IntelliTerm C57 Crono Termostato Settimanale IntelliTerm C57 è il crono termostato che ti permette di regolare e gestire la tua temperatura ideale tutti i giorni della settimana. Grazie al suo display digitale, IntelliTerm C57 ti consente di verificare l'ora, il giorno, la temperatura ambiente e la programmazione del giorno corrente. Con i comodi tasti di regolazione puoi migliorare la tua temperatura di comfort e di economy in qualsiasi momento. Per avere il giusto benessere e un sicuro risparmio energetico, durante il funzionamento invernale puoi usufruire del programma settimanale preimpostato posizionando il deviatore sulla scritta Auto. Con questa impostazione l'impianto di riscaldamento è spento durante la notte, mentre nel corso della giornata si alternano la temperatura di comfort e quella di economy da lunedì day 1 a venerdì day 5. Nei giorni sabato e domenica il programma è impostato per mantenere fissa la temperatura comfort dalle 8 del mattino fino a sera. Spostando il deviatore sulla scritta PROG potrai modificare le tue preferenze e impostare un programma settimanale del tutto diverso. La corona inizia a lampeggiare sulla mezzanotte del giorno corrente. Premendo il tasto Day è possibile cambiare il giorno in cui si desidera iniziare la programmazione, mentre con i tasti di regolazione dell'ora è possibile selezionare il settore orario da modificare. Per variare le impostazioni di temperatura premere il tasto Luna per impostare la temperatura di economy, il tasto Sole per impostare la temperatura di comfort, il tasto Off per impostare lo spegnimento dell'impianto. Ad ogni pressione il settore avanza di 30 minuti registrando le impostazioni selezionate. Terminato di impostare le prime 24 ore potrai copiare il programma anche per i giorni successivi, oppure premere Day per cambiare il giorno e ripetere le operazioni di programmazione. Al termine della programmazione, posizionare il deviatore sul funzionamento invernale per permettere al crono termostato di regolare l'impianto di riscaldamento come impostato. I dati inseriti rimangono in memoria anche nel caso vengano sostituite le pile. Per tornare alle impostazioni predefinite e cancellare la propria personalizzazione, premere il tasto di Reset utilizzando un piccolo utensile. Spostando il deviatore sulla funzione estiva inoltre, potrai utilizzare le tue impostazioni di comfort anche per regolare i periodi di funzionamento del tuo condizionatore. Quando parti per lunghi periodi invece, sposta il deviatore sul simbolo di spegnimento. Con questa funzione, IntelliTerm C57 manterrà la temperatura ambiente di 5 gradi centigradi per prevenire il congelamento dell'impianto durante i mesi più freddi. Qualitàplan CA Grazie a tutti.